Era una partita che si doveva e si poteva vincere. Il palazzolo ai punti avrebbe sicuramente meritato la vittoria e tre importantissimi punti in palio, ma la squadra di Pidatella ha trovato davanti a sé un super valenti che in più occasioni ha negato la gioia del gol ai gialloverdi. Dal canto suo il Licata dell'ex armenio, per lui ancora una carorosa accoglienza, allo scrofani salustro da parte dei suoi ex tifosi, non ha comunque demeritato difendendosi con ordine e creando diverse palle gol che il bravo Scordino con almeno tre strepitosi interventi ha neutralizzato. La cronaca. Al dici settesimo percussione centrale di Ike, tiro dal limite dell'area che Valenti sfiora quanto basta per deviare in angolo. Il Licata risponde con un colpo di testa di Sani su cross di Riccobono. Il possente centravanti ricatese è ben appostato nell'area piccola ma batte debole centralmente Scordino blocca senza problemi. Al ventisesimo palazzolo vicinissimo al gol del vantaggio, Martinez lancia in velocità Ike che supera due avversari, si presenta davanti a Valenti e al volo batte a rete, palla che si stampa sulla traversa. Al trentunesimo gialloverdi ancora vicini all'uno a zero, cross di Miraglia dalla sinistra e colpo di testa di Mazzeo che si stampa nuovamente sulla traversa. Dieci minuti dopo ancora Ike protagonista, calcio di punizione dal vertice sinistra dell'area e palla sul set. Valenti intuisce e si rifugge in angolo. La partita diventa piacevole, Licata risponde al trentanovesimo con un doppio tiro di Saini e Riccobono che Scordino respinge con due superinterventi. Il palazzolo nella ripresa continua a immaginare il gioco e al cinquantunesimo Mazzeo sfugge alle attenzioni della difesa di Catese e si presenta davanti a Valenti. Tiro a botta sicura e strepitosa respinta dell'estremo difensore gialloblu. Al sessantunesimo Mazzeo imbecca caputa alle limite dell'area, finta a rientrare del giovane attaccante gialloverde e tiro rasoterra, palla a fil di palo. Al settantaduesimo altra occasione per gli uomini di Pidatella, calcio di punizione di Martinez che da posizione defilata indirizza la sfera in porta. Valenti risponde con i pugni, sulla respinta corta si avventa Mazzeo ma la difesa di Catese si salva ancora una volta. Al settantottesimo crossa il centro di Grillo per Riccobono che aggancia la sfera al limite dell'area e lascia partire un gran tiro che Scordino respinge salvando la sua porta. All'ottantaquattresimo ancora un bel calcio di punizione di Martinez che Valenti in volo respinge in angolo. Pochi istanti dopo un'altra punizione insidiosa del neo entrato Costanzo, Valenti si supera ancora una volta e respinge in corner. E' questo l'ultimo sussulto della gara che si conclude a reti inviolate. Prossima gara in casa per il ricatacalcio Aldino Liotta contro la Vibonese senza Grillo, Vella, Zaminga e Paladino e senza il pubblico per la squalifica del campo.